Buongiorno, di ritorno da Torino, a me non mi piace usare il telefono in colpa, sincero, la verità, la verità proprio, la verità proprio. Detto questo, una buona Juve, ho visto gli highlights perché dalla prima fila non si vedeva niente, nel senso, dalla prima fila non si vedeva niente, mi sono divertito, una sfacchina che ricordiamo, vero che la Juve è già finita, mi è sempre nata il ferto, 7 ore, 7, andate e ritorno sono 14 ore, tra cui un'altra ora per arrivare a casa mia, adesso 15, un'altra ora adesso 16, sono più duri i viaggi in totale, quindi per la Juve questo è l'altra, adesso tutti a Verona, la squadra che è raccita bene, ci siamo divertiti, e questo è buono, bene i giovani messi in amma da motta, io non mi fidano se vedo troppa gente saltata, però ci sta giusto, 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 però piano, piano, poi arrivato anche Calou, l'ufficiale, domani arriva Cop Miners, e ci abbiamo la squadretta, adesso ci manca la stampa, dico González lì, adesso possibilmente, un terzino, e siamo a posto, e la squadra direi che è più che competibile, e tu questo è io, mi saluppo, sono sfatto qua, sono sfatto, e sempre fino alla fine, forza io, ciao bene. Grazie.